Gregori, Lattuca, Lattuca ancora non riesce a votare, ecco adesso ha votato, chi altro non riesce a votare, Dincecco, bene, dichiaro chiuse la votazione, 79 favorevoli, 332 contrari, la Camera respinge, votazione dell'articolo 5, se non ci sono interventi lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Pilozzi, Patriarca, Patriarca ancora non riesce a votare, bene, non mi pare ci siano altri che non riescano a votare, dichiaro chiuse la votazione. 277 favorevoli, 71 contrari, la Camera approva, adesso passiamo agli aggiuntivi, 5, 0, 400, Luigi Di Maio ed altri, i pareri sono tutti contrari, se non ci sono interventi lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Fanucci, Fanucci, Stella Bianchi, chi altro non ha votato? Parere che abbiano votato tutti, dichiaro chiuse la votazione. 96 favorevoli, 318 contrari, la Camera respinge, andiamo al 5, 0, 401, Luigi Di Maio ed altri, i pareri sono tutti contrari, non mi pare ci siano interventi, dichiaro aperta la votazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.